Ciao a tutti amici ben trovati, io sono Smith Terry e oggi sono qui per andare con la Ryzone Zero Dawn mentre stiamo facendo le missioni secondarie, stiamo cercando di raggiungere fine della creazione, fine del creatore allora iniziamo a parlare e anche la voce secondaria ho scoperto che ieri c'è stata una missione di uccidere, che ha disturbato i fox dei nemici e ci parla di ci qualcosa e quindi sono messo una pausa per bloccare e iniziare a fare insieme questa live, visto che dovrebbe essere anche importante quello che dice io ho già smotto la missione, quella con Oled, scusate, con Erend, e ho scoperto che fin da sorella fosse stato ucciso, sono stato rapita e il suo coppio è quello dell'altro, comunque ho ripreso nella missione principale, per andare fino al creatore, come dice Oled, Olin e non mi confondo, e quel di stasera a parlare, vediamo un po' cosa ci dice Oled quindi lascia uno spazio a lui, mando le ciance e che la legge per inizio, let's go! ho lasciato qualcosa di utile fuori dalle rovine, il tuo focus te lo mostrerà ma dov'è il tizino a conoscere? C'è, e come fa a sapere tutte queste cose? Elisabeth Sobeck ha detto, che razza di nome è? fa davvero freddo fa davvero freddo eccoli c'è qualcosa proprio dove aveva detto ok, cos'è? ma diciamo che alla fine può alzitare tutto switch, se un gioco qui può fare bene non male come scelta, ne farò buon uso, perché fai tutto questo? perché voglio che tu ce la faccia buona caccia, a vettarti aspetta maledizione non sono qui vedo che sta avvenendo ok, io ce la ero già così fatto mancano gli ultimi gli ultimi sono due, quattro, sei, otto metto un po' un attimo eclessi, come aveva detto che vediamo l'antica ma vedete corrotte fanno da guardia l'eclissi e le macchine corrotte e collaborano una famiglia felice ho fatto una caccia fa vista un po' mancato ma non c'è un bomba emantica ma ecco che è venuto a prima di queste bombe maledette ho fatto un po' di pulizia e sono di fermi mettiamo armi, ok rinvizziamoci un po' qua al piazzo qua al massimo ok, tutto al massimo ho fatto un po' di pulizio pernessione mesi io a volte non c'è un po' di pulizia ma non c'è un po' di pulizia io po' non c'è un biocidio io non c'è un po' di pulizia attaccare ora, si è bastate, cercate i soldi, soldi non ce ne sono, cosa è girato, questo potete farlo così, perfetto, altro morto, perfetto, manca solo questo di qua, perfetto, ancora me lo mangio, facciamo ancora bene, quello è morto. Sanno che sono qui. ahahah il popolo lo so tutto ok, a livello tutto poco C'è ancora un fuoco, c'è ancora la gente, è lì. C'è ancora una letta, non mi dica. Esci, farò in fretta. Oddio, corruttore, no. E' lo devo andare io, poi su questo. Andiamo un po' a fare l'attichella, se ne è possibile. Qua c'è tantissima gente, tantissima. No, non ho visto niente, d'altro non ho nascosto. Di altra parte. Meglio non farsi notare, per ora. Esatto. Dai, vattenvi qui. Dove potrei andare? Andando verso lì. Mi stanno cercando. Mi stanno cercando. Allora lì. Allora lì. E' un po' anche più scuro, che bello. Un po' anche più scuro, è error 2021. Non è vera questa. No, è vera. Io mi sono cambiato. Che siamo quando hai mai fatto. ok 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 io sono un po fregato questa parola lo so aspettare momento giusto e poter attaccare ma con questo più vicino da me cercherà però si sta a fare carino di nuovo punto c'è una cosa un po' vedere un po' attaccami da qui, ah, è bellissimo, meraviglio ci sarà bene che è un po' attaccami, non ci credo facciamo bussare, facciamo bussare si brucia, bruci la città pianti, pianti, mi dai, ho tolto oggi il punto deve di questo momento questo non è che via, è nascosto è un po' attaccami bellissimo, meraviglioso la cassa sta fatta in zentara per vincere che è un po' attaccami 10 10 10 10 10 11 12 13 14 14 14 14 15 un'esplosione tante esplosioni che c'è qui? io mi sa che qui non ci metta una vita che mi da le armi così c'è qualcosa di grossissimo speri addio che non ci sia nessuno tanto per la sua, tanto per la verità vero vorremmo fare o mila equilibrata colpo critico ora è stabilmente il tempo operato del 19% tutta vicino la cassa america riparare estriere c'è un corrotto lì? no c'è un exterminatore ma che bello io non mi posso stare qui che mi sa che è qui ecco ruotare terrente e... fuoco! le armi sono operative è ora di muoversi le fate il bretta non c'è tempo da perdere presto questo demone tornerà a funzionare un altro sterminatore non c'è tempo non c'è tempo deve essere uno degli sterminatori di cui parlava Olem un nome azzeccato non entrerò non entrerò mai in quella torre se prima non distruggo quella cosa il mio focus non funziona più ho disattivato il suo focus ma ti aspetta il resto ci penso io qualcuno ci sta uccidendo là fuori guardate il vapore schizza fuori forse sono quelli i punti deboli è molto bello e lo sterminatore è pericolosissimo molto pericolosissimo oddio non ristiglio alcun culo anche perchè noi siamo un bel ricoperti ok ragazzi sempre con debolo è che il mostro sta lì fermo riusciamo a batterli tutti eh finchè va così va bene per male da trovare il punto debolo nel mostro finchè non arriva lui e poi da lì attaccarlo con un chalance che vero così qualcuno delle cure oh grandissimo dammi qui oh eh no che non è questo oh mi è mancato uno è questo vediamo che cosa hai da dire cosa ma che cos'è lentità vive inaccettabile 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 che cosa diavolo era ade ehi straniero misterioso l'hai visto anche tu nessuna risposta eh figuriamoci il mistero si infettisce devo trovare un modo per entrare nella torre sembra stretta ma dovrei passarci eh quanto ci dai attendere i denti scan ancora una di queste identità genetica confermata ingresso autorizzato salve dottoressa super prego puoi entrare ah 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 ah